Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre torna in Italia il cambio d'ora. Le lancette infatti verranno spostate indietro di un'ora, dalle 3 alle 2 di mattina, passando dall'ora legale all'ora solare. Su diversi fronti si discute degli effetti sul disturbo del sonno o sul comportamento causati da cambi stagionali o come in questo caso da cambio orario. Ma si parla davvero di un disturbo o è solo suggestione? La redazione della tecnica della scuola, per capire di più quali effetti può avere questo cambiamento nella vita di tutti i giorni, ha intervistato Giuseppina Riotto, esperta nella terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione. Non si parla specificatamente di un disturbo, ma di patologie psichiatriche in cui i cambiamenti stagionali possono essere uno dei fattori ambientali associati alla manifestazione dei vari disturbi. Ad esempio, negli SM5, ovvero la quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, viene descritto l'andamento stagionale come uno specificatore che può essere applicato al pattern di episodi depressivi maggiore nel disturbo depressivo maggiore ricorrente, dove appunto la caratteristica essenziale è l'esordio e la remissione degli episodi depressivi maggiori in periodi dell'anno che sono caratteristici, ad esempio solitamente cominciano in autunno o in inverno e poi vanno in remissione in primavera. Sicuramente conoscere come questi cambiamenti possono impattare nella nostra quotidianità ci aiuta ad avere anche una spiegazione sul perché ci sentiamo in un determinato modo e sapere che questi cambiamenti sono fuori dal nostro controllo ci può aiutare a non sentirci sbagliati, ma ad affrontarli in maniera flessibile permettendo a noi stessi di darci del tempo. Beh, io penso che sarebbe opportuno più che altro far iniziare la giornata scolastica non con delle materie di un certo spessore ma soprattutto per favorire l'apprendimento sottolineerei l'importanza di fare delle piccole pause ogni 45 minuti in quanto è risaputo che la tensione successivamente tende a calare.